E ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, sono CacolaKid ed oggi siamo qua in un nuovo video Quest'oggi non siamo né su Minecraft né reagiremo ad altri video ma oggi siamo su Cranker come potete vedere Questo è un gioco che è uscito un annetto fa quindi è abbastanza nuovo Dove è tutto a stile cubico tipo Minecraft Dove ci si deve sparare E questo gioco è a round e ora vedrete un pochino voi com'è Ovviamente si può cambiare tutto, che ne so, le armi che si vuole Tipo io ho messo questo qua con la R e la pistolina Però si possono cambiare, ce ne sono tanti tipi Però prima di giocare vi ricordo di iscrivervi al canale se non siete iscritti Attivare la campanella per non perdere nessun mio video E lasciare un like se mi volete supportare E nel negozio creatore di Fortnite mettete XXPrincipalKids, mi raccomando, importantissimo Però direi che possiamo partire Ok Vedete qui ci stanno gli amici E bisogna sparare gli amici Quelli con la linetta rossa Ok Io mi metto qui accovacciato a camperare e a sparare quelli che arrivano Non sto scherzando Ovviamente su questo gioco ci sono anche gli hacker Non penso che questo qui sia un hacker Perché gli hacker sono quelli che Ci hanno La Ci hanno il cecchino E però Sparano il caso e ti prendono Però tipo questo a me Questo è a livello 51 E quindi gioca da tanto a cranker Quindi non è un hacker Invece gli hacker sono altri che io ne ho incontrati molte volte Molte volte Ora è finito questo round Ora dobbiamo selezionare una mappa per il prossimo round Io spero che esca questa qui con la neve Però mi sa proprio che uscirà Perché c'ha due votazioni Le altre 0 E quella lì kanji Una sola E infatti eccoci qua E' la mia mappa preferita Io un tempo giocavo un sacco a questo gioco Ma ora ci ho perso un bottissimo la mano raga E ora non ci so giocare più bene Spero che non ci siano hacker in questa partita Qualche volta mi mettevo così Sparavo tutti Facevo sempre headshot Invece ora avete visto Ci devo riprendere la mano ecco Allora intanto ora sicuramente mi arriverà uno da dietro Lui pensa che non l'ho visto ma Eccolo Oh dov'è Andato via Vediamo se c'è gente 17 ok Dov'è Ah questo c'ha il fucile a pompa E' fortissimo il fucile a pompa Io non so perché ma non la posso prendere Il tizio col fucile a pompa E' questo qui Devo arrivare a un altro Devo fare un tot Devo fare un tot di partite E devo salire di livello Per sbloccare anche il tizio col fucile a pompa Quelli con lucchetto sono quelli che non ho sbloccato Perché ci vuole tanto Eccolo col fucile a pompa Due kill Benissimo Cacchio Darma scarica ok Speriamo che non spawnano qui Ricarica ricarica Ok non c'è da ricaricarica Laserato Dai muori C'è altra gente dentro di me Cavolo Questo col cecchino da dietro Ecco questo qui mi sa che è un hacker Ragazzi non vorrei dire Ma questo qui mi sa proprio che è un hacker Guardiamoci dietro sempre Cacchio c'ho l'arma scarica Che palle Cacchio ma come fa Ma questo Questo è a livello 1 Quindi questo qui è un hacker Dai ma che palle Ragazzi non lo sto dicendo perché muoio Ma gli hacker io li riconosco molto bene Che palle Sempre gli hacker La scorsa partita avevamo incontrato una forte Ma questo non è forte La speciale hack Che io non metterò mai Ovviamente Ora è qua dietro Vuoi vedere E mi snipera Pure da vicinissimo Fa così E spara e mi uccide Schifoso Dove sono? Guarda quanto corre veloce Si vabbè Si vabbè Bravo hacker Hacker schifoso Cacchio Ma se lui mira di la Come fa a prendermi Oh io non lo so Aspetta dai qua C'è quello col cecchino E' sempre questo da dietro Che palle Dai però un po' di kill L'abbiamo fatta dai Io voto per questa città Anzi no Questa qui La stessa di ora Che è bellissima ragazzi E vabbè Quanti voti sta avendo Quattro Che palle Sempre questo qui da dietro Ma come si fa Guarda 3395 di score L'hacker Kill 26 Io 4 kill Ho fatto Questo è un buone 4 kill Dov'è 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 Ok Ora c'ho tipo La mini usi Non so cosa sia Sembra forte Sembra forte Cacchio Fa poco danno Fa poco danno Non posso restare Con quest'arma Dov'è Ma da dove Ce ne sono due E vabbè Lui c'ha la R Io c'ho la pistolina Facile Ora mi metto qui Eh no Dai fammi cambiare Fammi cambiare Con la Desert Eagle Mi ha ucciso Uno sputo di vita C'aveva Che palle Muori Cacchio è Che cavolo Eh vabbè Pistolina Meglio Che camperone Questo Abbiamo Per Stavo io Per contro E vabbè Facciamo questa mappa Sub zero No perché Evacuazione Questa qui Questa qua Questa qua Dai Che palle Io non voglio fare Questa Vabbè Cinque voti Lo devo mettere Vabbè Io lo metto su questa Intanto vabbè Facciamo Io non l'ho mai fatta Sta mappa Non so nemmeno Com'è Ecco Questo qua è un hacker Col cecchino Arriva là Corre 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 E mi cecchina Guarda pure Questo Ma che Schifo Ho Filato Quello Col cecchino Quanta vita C'avevi Mannaggia Difficile Come hai fatto Non si può incontrare Solo hacker In questo gioco Guardate Se mi cecchino Un'altra volta Io interrompo il video Lo dico Oh Quello aveva il cecchino Ma non era l'hacker Questo qua è l'hacker Sì Questo qua è l'hacker No Non era questo L'hacker è quello Con la copertura Viola Se no Poi sembra Sembra che Lo dico solo Perché perdo Se mi killo Un'altra volta L'hacker Io ve lo dico Interrompo il video Corre io Che sta via Dov'è Questo c'ha il pompa E vabbè Dov'è l'hacker Dove sei bello Dove sei bello mio Ti vengo a fin dare E questo è l'hacker No Dai Concludiamo con una kill E vabbè Ragazzi Io Ci possiamo Ci possiamo fermare così Se questo video vi è piaciuto Lasciate un bel like Iscrivetevi al canale Se non siete ancora iscritti Attivate la campanellina E noi ci vediamo Al prossimo video Let's go Ciao